Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme in Matteo 25,3 Benedetto sia il Signore, le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio. Per noi che siamo in questo mondo di tenebre, camminare, già ci serve l'olio. Signore aiutaci. L'olio non ci serve solo per far vedere al Signore che abbiamo ancora l'olio quando torna. Noi in questo mondo di tenebre, senza l'olio, Siamo all'oscuro. Quanti ce ne sono che vanno in chiesa con la lampada spenta? Vanno, vengono, tornano. Signore aiutaci. In primo Giovanni, capitolo 2, verso 11, dice che noi, chi odia suo fratello, è nelle tenebre. Cioè, non solo chi odia suo fratello, ma quando noi non agiamo conformi, conformemente agli insegnamenti di Cristo, camminiamo nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accegato i suoi occhi. Sai che quando noi non mettiamo in pratica quello che Gesù dice, è come camminare nelle tenebre, perché non vediamo quello che Gesù ci dice di fare. Allora l'olio non ci serve soltanto quando torna il Signore, ci serve per camminare col Signore. Non solo non sappiamo dove andiamo spiritualmente, ma siamo presi di mira dalle passioni mondane e dalle false dottrine, se non abbiamo la luce. Che comprendiamo? Niente. Quante volte mi viene in mente questa scena? Buona parte di noi abbiamo la Bibbia sul comodino. Per leggerla abbiamo bisogno della luce, della basciu, oppure della luce centrale della stanza. Se la prendiamo è in buio, che cosa vediamo? Niente. Così siamo pure noi. Se non abbiamo la luce, non comprendiamo neppure quello che leggiamo. Non solo non camminiamo conformemente alla parola di Dio, ma non la comprendiamo. Leggiamo nel verso 7. Carissimo, carissimo, carissima, amico, amica, chiunque tu sei che mi ascolti, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avete fin dal principio. il comandamento vecchio è la parola che avete udita. Cioè, la parola nella nostra vita viene digerita e poi dobbiamo camminare in quello che essa dice. Ma se noi non abbiamo la luce dello Spirito Santo, dell'autore che ci interpreta come muoverci, come facciamo a sapere? C'è tanta gente che si muove così, ma religiosamente. Ma noi non abbiamo scelto una religione quando abbiamo accettato Cristo nella nostra vita. Noi abbiamo preso una persona, Gesù, da seguire quello che Lui ci dice, come Lui fa, fare come Lui fa. Quando mi sono sposato non ho preso un matrimonio, ho preso mia moglie. Abbiamo un'intimità particolare e abbiamo cinque figli. Se prendevo un matrimonio senza mia moglie non avevo figli. Tanti prendono una religione, ma non hanno una relazione con il Signore. Noi dobbiamo avere una relazione continua col Signore. Quelli nati di nuovo hanno un desiderio continuo di respirare aria spirituale, respirare la presenza dello Spirito Santo nella propria vita. Nascere di nuovo vuol dire proprio come quando non respiri più e desideri un po' di aria e quando scopri dove c'è l'aria con l'ossigeno dentro, ti viene la voglia di respirare sempre da lì, da quel buco, da quel tubo, perché lì arriva l'ossigeno. Sai, in questo mondo, così arido com'è, non c'è ossigeno spirituale. L'ossigeno spirituale per farci vivere spiritualmente viene dal Signore. Quando siamo nati di nuovo, il nostro essere desidera sempre inspirare non l'aria qui senza ossigeno spirituale, ma lo Spirito Santo. ci sentiamo come poveri di spirito, che vogliamo sempre di più. Come quelli che gli manca l'aria adesso che fa caldo, cercano sempre dove poter respirare aria che porta ossigeno. Signore aiutaci per comprendere. Quante volte lo abbiamo sentito? Senza l'olio dello Spirito Santo non solo non entriamo nel cielo, ma non possiamo camminare. Il ritardo del pentimento o del ravvedimento ci porta a non respirare. In Atti, capitolo 2, verso 38, dice che se non abbiamo olio, non abbiamo luce, non abbiamo lo Spirito Santo, dobbiamo fare quello che dice Pietro, ripieno di Spirito Santo, come dice nel capitolo 2, verso 38 degli Atti, e poi leggiamo anche il 39, così comprendiamo. Per ricevere la salvezza e il battesimo nello Spirito Santo dobbiamo ravvederci. Dobbiamo rivedere la nostra vita e ciascuno di noi deve adempiere, fare, quello che Gesù ordina. La prima cosa che Gesù ordina dice chi ha creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Se noi crediamo, la prima cosa dobbiamo cominciare ad ubbidire. Se non ubbidiamo neppure il primo passo, crediamo che cosa crediamo. Signore, aiutaci. Quando noi andiamo al Signore, usciamo da un sistema idolatrico. Se non sono le statue, ma possiamo essere noi stessi, l'idolo di noi stessi. tutto ciò che è visto davanti a noi superiore a Gesù è idolatrice. Ravvedersi vuol dire lasciare e continuare in altro modo. Dovette fare anche Abramo così. Abramo con il suo papà erano degli idolatri. Dio li chiamò ad uscire fuori di Ur dei Caldei perché loro adoravano gli idoli, gli idoli che il re faceva. Lo possiamo anche vedere. in Giosuè, capitolo 24, verso 2, dice che Tera era immerso nell'idolatria. Quando Dio ci chiama, ci deve essere un vero ravvedimento. Tutto ciò che si interpone tra noi e Cristo è idolatria. Molti evangelici pensano di aver tolto le madonne dalle loro case e dai loro giardini e dalle loro chiese. E hanno fatto altri idoli che sono dentro al cuore. Noi dobbiamo stare attenti. Guardiamo cosa dice in Giosuè 24, 2. Questo è il cammino di fede che noi dobbiamo intraprendere. Questo lì... No. 24, 2. Giosuè 24, 2. Signore, aiutaci questa mattina. Giosuè disse a tutto il popolo Così parla il Signore il Dio di Israele. I vostri padri, come Tera, padre di Abramo e padre di Nahor, abitarono anticamente di là dal fiume e servirono altri dei. Vogliamo vedere il verso 3 cosa dice? E io presi il padre vostro Abramo di là dal fiume, gli feci percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. Gloria al Signore. Vedi, c'è l'ubbidienza che noi dobbiamo subito applicare. Molti credenti credono ma restano sempre come sono. Non ubbidiscono a Dio e non fanno niente. scusa. Leggiamo Pietro cosa dice per essere ripieni di Spirito Santo. Dobbiamo imparare sotto la nuova giurisdizione di Cristo che quello che dice Cristo per noi è regola da seguire. Leggiamo capitolo 2 verso 38 e 39 degli atti che ci siamo fermati prima. Pietro ripieno di Spirito Santo dice ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Non è il battesimo al ravvedimento ma è per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Alleluia. Le damigelle ebbero molto tempo ma lo sprecarono perché tra perché trascuriamo quelle piccole cose che mantengono l'olio la preghiera la lettura della parola di Dio la meditazione della parola di Dio quando noi non facciamo queste cose noi non abbiamo l'olio. Sai cosa hai imparato in questi anni che il Signore mi ha salvato? se io sono intento ad altre cose lo Spirito Santo non mi infastidisce mi fa fare tutto quello che voglio però non mi guida sai quanto mi guida? Quando io vado e mi metto a sua disposizione se prego mi comincio ad ispirare perché sono lì per lui e con lui se devo preparare il messaggio e il girosolo di qua e di là mi dà qualche idea ma il messaggio se non mi siedo invoco la sua presenza e continuo a mantenere un rapporto di continua comunione con lui io vengo qua la mattina e non avrei niente da poter dare il metodo di Dio è questo quando noi decidiamo di camminare con Dio dobbiamo prendere del tempo e fare quello che Dio dice la lettura della parola di Dio la preghiera e il servizio abbiamo bisogno di dire Signore sono qui per questo ho bisogno che tu mi guidi conosco molti credenti che hanno una chiamata dal Signore ne parlano tutta la vita ma stanno a un'altra parte Dio non si serve mai di te se non vai sul posto dove lui ti ha chiamato dice sì ma io poi farò no se noi leggiamo nel Vangelo quando sono stati chiamati i discepoli subito hanno lasciato e si sono dedicati a quello Elia quando passò vicino al giovane Eliseo gli diede appena appena il tempo di andare a casa per salutare i suoi poi per non avere più il desiderio di tornare ad arare prese i buoi prese i giochi gli esposti li consacrò al Signore facendo un olocausto e si mise a seguire Elia senza lasciarlo finché Dio se lo portò nel cielo se sei un credente che hai una chiamata e sei a un altro posto il Signore in questo momento ti sta dicendo che non vai bene così se ti ha chiamato a fare qualcosa lascia e fai quello che ti dice perché se no perdi l'occasione infatti queste cinque che non avevano olio il tempo lo avevano avuto ma non si erano collegate alla sorgente dell'olio Signore aiuti l'olio la preghiera la lettura la meditazione della parola del Signore Giosuè doveva condurre il popolo nella terra promessa anche per quello aveva bisogno di questo leggiamo il capitolo 1 verso 8 Giosuè come conduttore questo ci serve per condurre la nostra vita questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca ma medita lo giorno e notte abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto poiché allora mettici il verde sopra allora riuscirai precedentemente no in tutte le tue imprese se allora prospererai puoi sbattere la coda come un pesce fuori dall'acqua se non fai così il tuo cristianesimo è artificiale non c'è niente da fare te lo dico per esperienza lo dice la parola lui per portare all'altra parte il popolo per andare avanti doveva tenersi ogni giorno a questo tutti i giorni noi per portare la nostra vita a essere condotta nelle vie del Signore abbiamo bisogno della stessa cosa tu dici vabbè ma io ascolto pure alle 10.30 quando parli tu fratello grazie che sei con me però il Signore ti parla e io ti sto dando direttive che tu devi avere un tempo a partire dalla prima ora del mattino ma io quando mi alzo è già troppo tardi ti metti la sveglia e parti un'ora prima a mano prima usi la sveglia dopo Dio ti crea l'orologio dentro di te ti sveglia Lui non ti preoccupare e noi ci siamo in questo lo viviamo proprio ieri mattina quando preghiamo abbiamo detto io comincio alle 6 5.30 però mia moglie è qualche un altro un po' più tardi o allo stesso orario però alle 6 siamo lì signore grazie 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 sabato sera era l'una che abbiamo finito di pregare qualcuno ha detto domani mattina facciamo le 8 e mezza un'ora e mezza di preghiera poi preparati il messaggio prima sì sì va bene quando abbiamo cominciato a pregare alle 8 e mezza con gli altri si sono dette tra loro le sorelle ma comunque io alle 5 e mezza ero già sveglio mi sono girato e portato nel letto però realmente non mi veniva più il sonno vedi quando tu cominci con il desiderio di fare quello che Dio dice Dio mette il suo orologio dentro di te crea l'orologio spirituale non è neppure quello biologico lo posso dire perché quando lavoravo non avevo il tempo durante il giorno ma tutte le mattine lo Spirito Santo alle 4 mi svegliava dalle 4 alle 6 mi preparavo il messaggio alle 6 ero pronto per andare a lavorare e non avvertivo la stanchezza per Giosuè il conduttore questo ci serve a noi per condurre la nostra vita per camminare nella luce come dice Gesù Gesù questo dice per piacere lascia stare tutti i messaggi semplificati che ti danno la vita cristiana è una cosa seria leggiamo insieme in Matteo 25 4 seguiamo quello che dice Gesù vedrai che funziona mentre mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi per camminare nella luce dobbiamo seguire lui e lui non solo negli insegnamenti ci dice di fare così ma anche in pratica insomma in Giovanni 8 32 ci dice che se vogliamo imparare seriamente dobbiamo seguire lui conoscerete la verità e la verità vi farà liberi se leggiamo nel verso 12 dello stesso capitolo impariamo che cosa vuole dire Giovanni 8 12 dice io sono la luce chi mi segue vedi seguire le indicazioni che lui ci dà non solo quelle parlate ma anche come si muove chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita perciò lui dice pregate orate perché lo spirito è pronto e la carne è debole lui lo dice lo faceva se noi lo seguiamo vuol dire che dobbiamo fare così ma anche nell'epistola agli ebrei nel capitolo 12 verso 2 il consiglio è questo sempre lo stesso fissare lo sguardo su Gesù leggere la sua parola e fare come faceva lui come ci indica lui colui che crea la fede e la rende perfetta lui era gioioso nel fare queste cose che neppure la croce eh lo preoccupava disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio come Dio comandò a Giosuè a Giosuè nel capitolo 1 verso 9 gli ordinò di fare così non te lo ho io comandato sii forte e coraggioso metti la sveglia la mattina alzati non ti spaventare non ti scomentare perché il Signore il tuo Dio sarà con te dovunque andrai gloria al Signore a noi viene detto in Galati 1 8 che dobbiamo fare quel che dice il Vangelo altri Vangeli non ci interessano leggiamo insieme perché oggi ci sono tanti insegnamenti su Youtube a destra a sinistra ma anche se un Angelo dal Cielo mi annunciasse un Vangelo diverso da quello che sto dicendo io da quello che è annunciato da San Paolo sia maledetto sia scomunicato Signore grazie 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 per lo Spirito Santo ci fa vedere il pericolo come Dio diceva a Giosuè nel verso 8 del capitolo 1 Dio diceva a Giosuè devi fare così leggiamolo insieme no Giosuè 1 8 e poi lo dice a noi ci sono dei paralleli nella Bibbia che ci aiutano a comprendere questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca ma meditalo giorno e notte avvi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto perché allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai allora c'era la legge di Mosè giusto allora allora adesso invece c'è il Vangelo che non che dobbiamo trascurare la Bibbia però dobbiamo seguire il Vangelo poi lo ripete nel verso 9 Dio a Giosuè leggiamo il verso 9 Gloria sia resa a Dio non te l'ho io comandato sii forte e coraggioso non ti spaventare e non ti sgomentare perché il Signore il tuo Dio sta raccontando ovunque tu andrai a noi dice in Galati 1 8 e 9 dobbiamo seguire il Vangelo di Gesù Cristo ma se anche noi o un Angelo dal Cielo mi annunciasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo annunciato sia scomunicato non ci devi avere a che fare non lo devi seguire leggiamo il verso 9 lo ripete un'altra volta proprio come fece con Giosuè come ho già detto lo ripeto di nuovo anche adesso se qualcuno se qualcuno ti annuncia un Vangelo semplificato che non è quello che dice Gesù Paolo gli Apostoli i Profeti a quello che stiamo predicando sia scomunicato non lo devi seguire perché ti porta fuori strada questo è forte è vero Gesù dice in Matteo 25 da 1 a 3 quello che stiamo dicendo il Vangelo parla chiaro leggiamo Matteo allora il Regno dei Cieli è paragonato a dieci vergini le quali prese le loro lampade e uscirono a incontrare lo sposo cinque di loro stolte eccoci qua perché erano stolte perché non seguivano quello che Gesù aveva detto e cinque avvedute le stolte nel prendere le loro lampade non mantenevano un filo di comunione continuo con il Signore non avevano preso con sé l'olio le stolte all'ultimo istante nel verso 8 volevano correre ai ripari no il Signore ci sta parlando che non dobbiamo aspettare sul letto di morte come pensa qualcuno io adesso faccio la mia vita così poi all'ultimo momento all'ultimo momento chiedo perdono a Dio e finisce tutto sai quanti ce ne sono che pensano così ma chi te l'ha detto che riesci a fare così il Signore ritorna come un lampo come fai a trovare il tempo di mettere ordine nella tua vita leggiamo nel verso 8 le storte dissero alla vedute datoci del vostro olio perché le nostre lambade si spengono hai capito avevano spregato il loro tempo e poi volevano l'olio da chi non glielo poteva dare stai attento ascolta quello che ti dico da parte del Signore io non mi permetto di dire cose che non sento nel cuore che il Signore ti vuole dire ascolta non ti sprecare a monte a valle considera quello che il Signore sta dicendo nella Sua parola questa mattina le stolte volevano recuperare tutto in un momento le stolte le disavvedute la parola di Dio ci dà vedutezza nella Chiesa agli Efesini nel capitolo 5 verso 17 ci viene detto così perciò non siate disavveduti ma intenti bene quale sia la volontà del Signore non facciamo come le stolte nel verso 16 leggiamo Signore aiutaci recuperando il tempo perché i giorni sono malvaggi non ti sprecare in altre cose stupide in programmi che non servono e sprechi il tuo tempo le tue energie resti asciutta resti asciutto sempre senza olio vivi l'aridità del mondo che non conosce il Signore Signore aiutaci attentamente con disciplina ci sono le indicazioni nella parola del Signore tu puoi essere una persona beata beata vuol dire felice piena della beatitudine celeste proprio all'inizio all'inizio dei salmi il salmo 1 verso 1 ci dà un'indicazione che noi se la seguiamo possiamo cantare tutti i canti di questo mondo beato l'uomo beata la donna oppure vuol dire che non cammina secondo il consiglio degli empi ma camminiamo secondo il consiglio del Signore che non si ferma nella via dei peccatori non ci sprechiamo a fare quello che fanno gli altri né si siede in compagnia degli schernitori cioè non accondiscende nel fare quello che fanno gli altri dove siamo tutto può sembrare bene ma non tutto ci è utile Signore aiutaci il mondo è la via larga ci porta nei deserti dove ci sono solo mirages cosa sono i miraggi sono che tu se cammini dove non c'è strada non c'è via è un deserto cammini 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 vedi delle montagne dici adesso arrivo a quella montagna e poi vedrò che cosa c'è dall'altra parte quella è un'illusione ottica quando arrivi che arrivi là la montagna sembra che si sposta sempre forse non sei stata nel deserto non sei stato nel deserto è facile che hai camminato con la macchina sull'asfalto quando fa caldo vedi a lunga distanza con la tua macchina come se la strada fosse bagnata ma quando ci arrivi con le ruote quando arrivi con la macchina non è bagnata è un'illusione ottica che l'asfalto dà l'impressione come se ci fosse acqua se vuoi bere quell'acqua sorella mia stai sempre morta di sete quella non è acqua è un'illusione ottica l'altra via del mondo ti porta nel mare negli oceani dove non sai più la strada che devi prendere mentre la via del Signore sembra stretta ma è fatta a misura nostra hai passamani dove possiamo mantenerci dove non cadiamo se siamo un po' deboli nella strada del Signore ci sono i passamani ci manteniamo a Dio sia la gloria Signore aiutaci questa mattina mentre la via del Signore è a misura nostra e infatti Gesù dice in Matteo 7,14 leggiamolo insieme quando quando stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita Dio non è che non può fare un portone una grande strada ma ci spiega metaforicamente che è molto importante camminare in una strada dove siamo protetti leggiamo il resto del verso gloria al Signore e pochi sono quelli che la trovano tu sei da che parte sei tra quei pochi o tra quei tanti che camminano nel deserto o sono negli oceani dove non sanno dove si trovano la via non bisogna andarla a cercare chissà dove la via è Gesù stesso basta seguire le sue indicazioni allora chiariamo perché sennò pare che siamo astratti abbiamo letto insieme in Giovanni 8 12 dice io sono la luce del mondo chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita una cosa molto importante seguire Gesù giusto nel capitolo 14 di Giovanni verso 6 lui dice chi è lui la via non è una via qualsiasi è lui che ci indica cammina con noi se cerchi la verità lui è la verità ti dice sempre la verità di Dio lui è la vita cioè seguendo lui trasferisce trasferisce nella nostra vita la sua vita e nessuno viene al padre se non per mezzo di me come trasferisce la sua vita attraverso la vita noi quando ci nutriamo di pane mastichiamo quel poco di pane diventa forza nella nostra vita del bere quel poco di acqua diventa vita nella nostra vita questo è un miracolo questa acqua diventa vita ma come può essere quando noi abbiamo comunione con Cristo parliamo con Lui restiamo nella sua presenza diventa vita spirituale questo è il modo di nutrirsi spiritualmente come ti vuoi nutrire se no se non hai comunione con Lui Lui dice che Lui è la vera vita e noi siamo i tracci se tu il traccio sta staccato da che cosa si nutra? sì ma io non vedo cosa vuoi vedere la vita fluisce dalla vita ai tracci ma non la vedi ma neppure dentro di noi vediamo la vita perché non la vediamo non siamo vivi la vita è astratta e parliamo di cose naturali per comprendere quelle spirituali se seguiamo Gesù abbiamo la luce che significa anche la vita quando non abbiamo più luci siamo morti Signore aiutati con umiltà Gesù dice nel capitolo 25 verso 13 dice così Matteo 25 5 e 13 svegliate dunque perché non sapete nel giorno e nell'oro per avere sempre la luce e l'olio dobbiamo sempre rivedere la nostra vita alla luce del nostro rapporto con Lui la luce è lo Spirito Santo quando noi ritorniamo al Signore dobbiamo continuare a camminare con Lui dobbiamo seguire Lui abbiamo letto di Abramo che portò pure suo padre non è che poi tornò un'altra volta a Ur dei Caldei aveva iniziato un cammino con Dio continuò 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 seguendolo senza tornare mai più dove era prima vogliamo leggere un'altra volta Giobbe 24 2 la storia di Abramo poi la possiamo leggere nella Genesi ma Dio fece tutto quello che gli aveva detto ma Lui non tornò più in Ur dei Caldei e quando Dio lo chiamò lasciò come ho detto prima se il Signore ti chiama tu devi seguirlo abbiamo parlato finora chi mi segue chi fa come dico io chi segue quello che dico io oggi tutti parlano ma noi dobbiamo stare attenti leggiamo questo esempio di fede di terra e di Abramo fu Abramo che portò terra suo padre leggiamo insieme Giobbe 24 2 forse non avevi mai sentito che Abramo era un'idolatra chiedo scusa Giosuè 24 2 ho sbagliato Signore grazie grazie Giosuè 24 2 dice Giosuè disse a tutto il popolo e ora lo dice a noi che siamo insieme così parla il Signore il Dio di Israele i nostri padri non sappiamo che strada seguivano come terra padre di Abramo e padre di Nahor abitarono anticamente di là dal fiume e servirono altri dei però quando Dio li chiamò tutto cambiò dove l'ha chiamato Dio l'ha chiamato dove era Lui dove ci chiama Dio ci chiama dove siamo noi Lui dove era leggiamo insieme in Genesi capitolo 12 verso 1 e 2 Lui credette e fece proprio come Dio gli aveva detto lo seguiva attentamente Signore grazie per questi esempi di fede noi dobbiamo seguire è inutile che diciamo io credo io faccio il Signore disse ad Abramo va via dal tuo paese dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò perché io ti voglio benedire io farò di te una grande nazione ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione molti vogliono essere benedetti e vogliono restare dove sono ma non esiste nella Bibbia non c'è questa è la regola di Dio Dio fece la stessa cosa con Isacco nel capitolo 26 verso 3 della Genesi gli disse qualcosa molto importante questi esempi servono per noi soggiorna in questo paese io sarò con te ti benedirò perché io darò a te la tua discendenza tutti questi paesi manterrò al giuramento che fece ad Abramo tuo padre leggiamo nel verso 12 cosa fa Dio vedi questo è la base del cristiano Isacco seminò in quel paese quale quello che aveva detto Dio e in quell'anno raccolse il centupo il Signore lo benedisse il Signore aiutaci questa mattina ma tu capisci che dico io io so che tu capisci voglio dire capisci che devi lasciare la vecchia via e seguire Gesù la nuova via Gesù è la nuova via non una nuova chiesa una nuova denominazione cambi chiesa non vuol dire niente San Pietro ripieno di Spirito Santo ci dà le direttive precise in Atti capitolo 2 38 e 39 dice che noi possiamo camminare con la luce di Dio ripieni di Spirito Santo quella è la luce lo Spirito di Dio nella nostra vita leggiamolo insieme e Pietro disse loro e questa mattina lo dice a me a te ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo perché la promessa è per voi per i vostri figli e per quanti sono lontani per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà per lungo tempo appresso non fare come lo storto stiamo parlando di storti e di avveduti abbiamo parlato delle vergine storte anche nella Bibbia nel Salmo 14 verso 1 dice lo storto dice dentro di sé perché vuole camminare a modo suo che non c'è Dio leggiamolo insieme lo storto ha detto in cuor suo non c'è Dio sono corrotti fanno cose abbomilevoli non c'è nessuno che faccia il bene gli storti si muovono così ma gli avveduti sono quelli che seguono Dio gli storti non è che sono stupidi solo che scelgono la via del mondo nell'oceano nel deserto mentre noi abbiamo scelto la via che mena Dio molti seguono quella lo abbiamo letto in Matteo 7,14 leggiamolo un'altra volta quale strada stai seguendo? quando stretta la porta è angusta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano pochi ma che importa è importante arrivare a destinazione sono corrotti fanno cose abominevoli gli storti hanno gli occhi pieni di alteriggia lo dice in Proverbi 21,4 quando ascoltano diventano con gli occhi piccoli perché non vogliono ascoltare col cuore gli occhi alteri e il cuore superbo lucerna vuol dire immagine degli occhi la lucerna gli occhi degli empi sono peccato cioè la lucerna simboleggia gli occhi ma noi cristiani facciamo come dice Gesù in Matteo 25,13 lui ci dice come dobbiamo fare seguiamo vegliate dunque fatti passare il sonno metti la sveglia la mattina perché non sapete nel giorno e nell'ora che il Signore tornerà lui sta per venire abbiamo detto recuperando il tempo già ne abbiamo perso tanto di tempo e infatti nell'epistola agli efesini nel capitolo 5 verso 16 ti dà e mi dà questa raccomandazione recuperando il tempo perché i giorni sono malvaggi dobbiamo essere sempre ricolmi di luce sempre pieni di luce ma che cos'è la luce leggiamo nel verso 18 siate ricolmi di spirito santo ma siate ricolmi di spirito santo sì 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 benedetto sia il Signore a Dio sia la gloria come ubriachi pieni di spirito santo come in atti 2 e 4 leggiamolo insieme tutti tutti furono riempiti di spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo spirito dava loro di esprimersi di spirito santo non serve solo per la glossolalia cioè parlare in altre lingue serve anche per predicare il Vangelo nella potenza dello spirito santo signore aiutami questa mattina nel capitolo 4 verso 8 troviamo Pietro che è rì pieno di spirito santo e ha un messaggio potente pieno di spirito santo disse loro capi del popolo e anziani San Paolo aveva anche lui la potenza dello spirito santo per scacciare le forze dell'avversario nel capitolo 13 verso 9 anche Paolo era ripieno di spirito santo alleluia noi dobbiamo stare sempre pieni allora Saulo detto anche Paolo pieno di spirito santo guardandolo fisso gli disse leggiamo il verso 10 cosa dice questi pregavano sempre o uomo pieno di ogni frode di ogni malizia figlio del diavolo nemico di ogni giustizia non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore intorno a noi ce ne sono tanti che fanno così anche Gesù era pieno di spirito santo come uomo Gesù aveva bisogno perciò pregava sempre perciò dobbiamo seguire lui in Luca capitolo 4 verso 1 è detto Gesù pieno di spirito santo ritornò dal giornale fu condotto dallo spirito nel deserto per 40 giorni dove era tentato dal diavolo ma lui ne uscì vincitore in Galati 5 16 e 17 ci dice così camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste hai compreso che cosa vuol dire vuol dire che noi dobbiamo desiderare sempre di convergere la nostra mente il nostro cuore il nostro essere sempre 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 verso quello che dice Gesù perché Gesù il nostro duce capo e convitor di fede durante il percorso del suo cammino non ha mai trascurato la pienezza dello spirito santo fino che arrivò sulla croce e sulla croce era amor nostro e gli diede lo spirito nelle mani del padre è quello spirito è lo spirito santo che riempie i nostri cuori e di quello dobbiamo essere sempre pieni perché quello ci fa camminare esattamente come lui ha camminato e la sua vita è la nostra vita che si manifesta allo stesso modo Cristo cristiani come uomo bambino ha le stesse caratteristiche dell'uomo man mano che cresce diventa uomo solo è una misura più piccola ma è formato uguale la testa le mani le braccia così siamo noi dobbiamo crescere a immagine di Cristo e questi sono i cristiani vuoi essere uno di quelli io sì io desidero proprio così perché qua finisce tutto ma nel momento che lui torna e non è lontano ascolta non è lontano io non voglio parlarti delle cose come stanno intorno a noi nel mondo non ti voglio perché lo dicono i telegiornali ma non è lontano non è lontano mi manca il tempo di dirti e spiegarti ci vorrebbero giornate intere ma le cose come sono messe intorno a noi nel mondo attenzione il Signore sta per ritornare controlliamo l'olio come quelle avvedute perché il Signore desidera che noi siamo avveduti vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola questa mattina preghiamo insieme Signore in un modo speciale ti voglio pregare per la sorella che siamo stati insieme per il fratello che siamo stati insieme per l'amico per l'amico Signore fa che nasca il desiderio nei nostri cuori di mantenere quell'alimentazione continua un filo di comunione continuo con Te come abbiamo sempre un filo di ossigeno nei nostri polmoni per vivere per vivere per vivere così dobbiamo desiderare di ricevere la presenza dello Spirito tuo Santo sempre per inspirare la tua divina presenza nella nostra vita e fare quello che lo Spirito Santo ci indica di fare secondo la tua parola grazie grazie Signore grazie Signore ameno ameno ameno